E quindi ero molto interessata a comprendere cosa fosse e quali sensazioni sortisse. E quando riguardano le sensazioni e le emozioni sono... Mi sento di dire a caldo, vivamente, se si ha voglia sul serio, di fare un passo in avanti. Perché? Perché si fa un passo in avanti. Verso te, verso il sé, verso quello che desideri davvero, che molte volte non è quello che ci raccontiamo. E ancora più profondo. E la Tio Yahu, proprio nella discesa, te lo fa vedere. La grazia di domani accetterà la sua fragilità, accetterà che c'è qualcuno che gli può voler bene. Delegherà quello che non ha mai fatto.